Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera! Torniamo con le video lezioni dedicate alla maturità e questa volta parliamo di Pierpaolo Pasolini. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace qui sotto, iscrivervi al canale e seguirmi anche su Instagram, mi trovate come Diario di Charlotte. Infatti questa video lezione me l'avete proprio richiesta nelle mie storie. Pierpaolo Pasolini nasce nel 1922, siamo a marzo e ci troviamo a Bologna. Pasolini è il primogenito di Carlo Alberto Pasolini e della maestra casarsese Susanna Colussi. Infatti Pasolini vivrà per periodi anche a Casarsa, città natale della madre in Friuni, nelle mie zone. La famiglia per il lavoro del padre si trasferisce spesso, quindi viaggiano molto. Il rapporto che ha Pasolini con il padre è un rapporto complesso, sembra quasi provare paura, terrore per quell'uomo così severo nei suoi confronti. Invece con la madre è un rapporto molto bello. Lui addirittura paragona sua madre a Socrate, il filosofo greco, il maestro di Platone, colui che nel 399 a.C. viene condannato per aver corrotto i giovani quando invece vuole solo portare la verità. La madre di Pasolini di fatto gli racconta favole, storie, per questo lui la paragona a Socrate, quindi al suo maestro. Nel 1928 la famiglia si sposterà poi a Casarsa, città natale, come vi dicevo, della madre. E Pasolini è ospite della casa materna. Il padre invece viene arrestato a causa del gioco d'azzardo e dei debiti che ha accumulato. Quando il padre viene scarcerato, riprendono nuovamente i trasferimenti ogni anno, però Pasolini in estate torna a Casarsa. Dopo essersi spostati tra Sacile e Conegliano, la famiglia resta per un periodo a Cremona e Pasolini inizia il liceo. Si appassiona al calcio, alla letteratura, legge Dostoievski, Tolstoi, Shakespeare e anche i poeti romantici. Dobbiate che si diploma con un anno d'anticipo e poi si iscriverà a lettere a Bologna. A lettere si appassionerà non soltanto della letteratura, della poesia, che già lo interessavano, ma anche di cinema, tant'è che frequenta il Cine Club e segue i film di René Clerc. Le letture e le passioni di Pasolini sono varie. Lui si dedica a Montale, manca a Ungaretti, legge le traduzioni dei lirici greci, di Quasimodo e si appassiona anche alla pittura, perché segue un corso all'università proprio relativo a Masolino e a Masaccio. Nel 1941 suo padre viene fatto prigioniero e viene internato in un campo di prigioniere inglese in Kenya e rimarrà fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale prigioniero suo padre. Pasolini tornerà dunque a Casarsa e scriverà proprio una raccolta di versi intitolata Poesia Casarsa, che pubblicherà nel 1942. Amante di Pascoli si laurea con una tesi su Pascoli nel 1945, un altro dei poeti fondamentali da studiare per questa maturità. E vi lascio la video-lezione su Pascoli. Si dedica dunque alla poesia in lingua italiana, ma non solo, sappiate che Pasolini è anche un sostenitore del freulano e le prime poesie lui le raccoglie nella raccolta l'usignolo della Chiesa Cattolica. Dopo essere stato vice-direttore della rivista La Gioventù Italiana del Vittorio, Pasolini inizia a maturare una forte coscienza antifascista, favorita anche dall'amicizia con Giovanna Bemprad. Quindi si sposta in Friuli con la famiglia per attendere la fine della guerra. Viene anche chiamato alle armi e si arruola nel 1943 a Pisa, però dopo una settimana disobbedisce all'ordine di consegnare le armi ai tedeschi e quindi scappa. Allora io penso questo, che il fascismo, il regime fascista, non è stato dato in conclusione che un gruppo di criminali al potere. Sarebbe dovuto essere deportato, quindi scappa, travestito da contadino e torna a Casarsa. Tra le attività di Pasolini abbiamo la rivista Strolligut di Cadalaga, che è una rivista, come vedete il titolo è in friulano, però tornato a Casarsa si trova in difficoltà, perché Casarsa, come saprete, è vittima dei bombardamenti, anche dei rastrellamenti per formare l'esercito della Repubblica di Salò e Pasolini deve tirare a campare, quindi si dedica a lezioni private, a corsi di poesie e lui e la madre si devono poi anche spostare da Casarsa, perché Casarsa si trova in serie difficoltà a causa dei bombardamenti e si spostano a Versuta, mentre il fratello Guido sarà partigiano in Carnia. Insieme a sua madre, Pasolini apre una scuola gratuita per gli studenti del posto e Pasolini in questo periodo vive il suo primo amore omosessuale con un allievo. Dice lo stesso Pasolini, in quelle membra splendevano un'ingenuità, una grazia o l'ombra di una razza scomparsa che durante l'adolescenza affiora. Allo stesso tempo inizia anche ad avere un'amicizia con Pina Kac, che è una violinista slovena che si innamora di lui. Quindi la vicenda sia del suo studente che l'amore di Pina nei suoi confronti si intracceranno poi anche nell'immaginario dello scrittore. Vi dicevo, Pasolini e il friulano, no? Il friulano è una lingua così come il sardo è tutelato dalla legge 517 per quanto riguarda il 1991 per quanto riguarda le minoranze linguistiche. È una lingua il friulano e nel 45 ancora non c'era questa legge. Però Pasolini fonda un'accademia, l'Accademia di Lenga Furlana che viene dedicata proprio al fratello Guido, partigiano in carnia che viene ucciso dai partigiani comunisti. Gli accademici di questa Accademia di Lingua Furlana sono dei seguaci del glottologo famosissimo Grazie a Dio Isaia Ascoli e vorrebbero l'autonomia del friulano. Autonomia che poi, come vi dicevo, sarà raggiunta perché il friulano è considerato a tutti gli effetti una lingua. Vicino all'italiano poi ci sono anche i dialetti veri e propri. Certo che sono delle lingue potenziali che non sono arrivate al grado di lingua perché sono state soppiantate dal prestigio letterario del fiorentino. Nel 1946 Pasolini continua la sua attività di scrittura e nel romanzo di Narciso descrive anche le sue esperienze omosessuali. Nel frattempo si iscrive al Partito Comunista Italiano e diventerà anche segretario. Studia Gramsci, Marx e aderisce propriamente al comunismo. In fondo la resistenza è stata una sorta di grande rabbia organizzata impiantata soprattutto sull'ideologia marxista. Allora quando un giovane italiano si rivolta contro la burguesia trova già, in un certo senso, una strada aperta, la strada aperta della resistenza. Alternano la sua attività politica come segretario del PC all'attività di insegnante insegna a lettere alle scuole medie di Valvazzone. Negli anni 50 inizia a scrivere il suo primo romanzo che è Il sogno di una cosa però iniziano i guai nel senso che Pasolini proprio in questo periodo viene accusato di atti osceni in luogo pubblico e di corruzione di minori quindi viene sospeso dall'insegnamento. La mia vita futura non sarà certo quella di un professore universitario ormai su di me c'è il segno di Ravaud o di Campana o anche di Wild che io lo voglio o no che altri lo accettino o meno Ravaud Dino Campana poeti considerati in un certo senso oscuri Ravaud fa parte dei poeti simbolisti francesi ha una vita da poeta maledetto anche Oscar Wilde sappiamo che ha avuto una vita dissoluta considerata ai tempi anche Dino Campana dunque Pasolini si trasferisce nuovamente con la madre vedete è sempre con la madre di fatto a Roma a Roma dove stringe amicizia con anche altri intellettuali Sandro Penna Sergio Citti che non è un intellettuale però è un invianchino è un invianchino che però gli insegna qualcosa di molto importante per Pasolini nella sua formazione anche come scrittore il romanesco il romanesco che lui utilizzerà nei suoi romanzi infatti nel 54 pubblica la meglio gioventù e nel 55 ragazzi di vita il tema di ragazzi di vita che è la prostituzione omosessuale maschile causa a Pasolini accuse di oscenità per le quali però viene assolto sempre verso gli anni 60 pubblica le ceneri di Gramsci e una vita violenta e inizia anche la sua attività nel cinema no? sappiamo che già a Bologna Pasolini si interessa al cine club però qui lavora lavora alle riprese di Mamma Roma che verrà presentato alla mostra del cinema di Venezia nel 62 Mamma Roma con Anna Magnani un'attrice meravigliosa italiana io me so liberata da una gorda adesso tocca un'altra appa la serva e nel 61 scrive lui stesso e dirige a Cattone che è il primo film ambientato nella periferia romana io non sto proprio ai gommodi del nessuno io voglio uscire non ne posso più ma che fai? dedica a Elsa Morante la religione del mio tempo una raccolta continua quindi la sua attività sia di scrittura sia cinematografica un'attività vario pinto un'attività piena di contributi e addirittura partecipa al Rogopag il film con Jean-Luc Godard Roberto Rossellini e Ugo Gregoretti e poi scrive e dirige un film che vi consiglio di vedere viene accusato per vilipendio alla religione ed è la ricotta meraviglioso siamo sul set della Passione di Cristo e c'è una comparsa che cerca di mangiare il proprio pranzo mentre sulla croce nel momento della Passione ha un'indigestione mortale a causa proprio di questa ricotta è morto povero Stracci crepare non aveva altro modo per ricordarsi che anche lui era vivo niente vi dipendio la religione come vedete politica cinema società sono fortemente intrecciati in tutto quello che è il panorama PPP il panorama Pierpaolo Pasolini che peraltro dirigerà anche insieme a Moravia e a Carocci la serie della rivista Nuovi argomenti Pasolini studia il popolo studia osserva parla non è che studia dal di fuori studia dal di dentro come faranno poi i sociologi nel novecento che andranno nella fine del novecento a fare degli studi sul campo le famose inchieste sul campo e negli anni sessanta nella metà degli anni sessanta lui dirige anche un docufilm che si chiama Comizi d'amore di cui vi lascio qui un inserto dove vuole andare a conoscere le opinioni degli italiani sulla sessualità secondo lei i problemi sessuali vanno trattati esplicitamente oppure è meglio tacerne per me è meglio tacerne questa società bisogna essere don Giovanni perché sennò sei un felice interessante lei pensa che i giovani di adesso siano più liberi di quando era giovane lei o no? poi molto molto più liberi si del mio tempo si molto più liberi ma è meglio come adesso o è meglio come era una volta? per me è meglio come era una volta non come oggi e perché? perché oggi è troppo spudorato è un po' una sorta di intervista come quelle che guardiamo oggi dei show di Giacomo Ockman quelle che ci capitano su youtube però negli anni 65 quindi era molto avanti Pasolini anche in questo pensate che nel 1966 con il film Uccellacci e Uccellini abbiamo anche l'ultima comparsa di Toto e questo film vuole andare a simboleggiare la lotta sociale tra gli oppressori e gli oppressi gli scandali di Pasolini continuano perché nel 68 anno catartico peraltro lui pubblica Teorema che viene però sequestrato per oscenità e ci sarà anche un film nello stesso periodo diventa anche autore di canzoni cosa sono le nuvole di Mudugno non l'avete mai sentita bene l'autore è Pierpaolo Pasolini e tutto il mio folle amore lo soffia il cielo lo soffia il cielo così al cinema ma anche teatro infatti presenta teatro Ordo e Porcine e poi dirige un film Medea con la meravigliosa cantante e attrice in questo caso anche lirica Maria Callas Nelle tue vecchie spoglie Medea Nelle tue vecchie spoglie Altro film che dovete assolutamente recuperare è Il Decameron Il Decameron dove lui scrive no? la sceneggiatura di dieci novelle tratte dal boccaccio a cui poi seguono anche i racconti di Canterbury Il fiore delle mille e una notte fanno parte della trilogia della vita negli anni 70 stiamo avvicinando alla fine della vita di Pasolini perché fa tantissime cose ma muore anche giovane lavora a Petrolio che verrà pubblicato nel 1992 quindi postumo e nel 75 partecipa addirittura al festival di Parigi con il film Salò infatti Pasolini è un regista ricapitolando no? A cartone è il primo poi c'è la ricotta che desta scandalo vi dipendio per la religione il Vangelo secondo Matteo uccellacci e uccellini con cui denuncia i soprusi teorema anche questo scandalo poi abbiamo la trilogia della vita e Salò o le 120 giornate di Sodoma e anche qui ci saranno diverse reazioni a Salò perché l'obiettivo anche di Pasolini è quello di scandalizzare di pretendere di bestemmiare quindi vuole identificarsi col diverso dimenticare i grandi successi e continuare imperterrito negli anni 70 denuncia la crisi dell'uomo negli anni 70 che di fatto ha delle difficoltà a vivere nella sua condizione umana e dal punto di vista politico culturale sociale Pasolini si fa riconoscere con i suoi scritti corsari addirittura scrive un articolo contro i capelli lunghi che vi consiglio di leggere perché pubblica con il Corriere della Sera e spazio scrive di politica di costume e di società altri articoli che lasciano il segno dopo il referendum sul divorzio del 74 pubblica gli italiani non sono più quelli perché nel 74 finalmente è stato concesso il divorzio che prima non esisteva l'unico modo per sciogliere un matrimonio era la morte di uno dei due coniugi e nel 75 pubblica un altro articolo sono contro l'aborto quindi si dichiara contro l'aborto perché lo considera una legalizzazione dell'omicidio chiaramente possiamo essere d'accordo o meno con le opinioni di Pasolini però c'è da dire che Pasolini è uno scrittore che deve essere studiato che deve essere analizzato è un peccato che a scuola spesso venga accantonato non si studi anche nelle mie zone io sono friulana e quindi dovrei aver studiato Pasolini a scuola ma non è stato così perché il tempo è sempre tiranno eppure certi autori bisognerebbe studiarli lavora come vi dicevo alle riprese di Salò che già vi anticipavo viene presentato al pubblico dopo la sua morte la sua morte appunto lo scrittore e regista Pierpaolo Pasolini è stato assassinato la scorsa notte alla periferia di Roma il giovane di 17 anni Giuseppe Pelosi ha confessato di aver ucciso lo scrittore muore assassinato nella notte del primo novembre da sembra Pino Pelosi che però nel 2005 dichiara di non essere colpevole non viene assassinato a Ostia e questo omicida Pino Pelosi aveva ai tempi 17 anni secondo altre teorie in realtà ci sono dei mandanti di questo omicidio legati al mondo della politica qui ancora mistero per quanto riguarda la morte di Pasolini e dice Moravia la sua fine è stata al tempo stesso simile alla sua opera e dissimile da lui simile perché egli ne aveva già descritto le modalità squalide atroci della vita anche della sua opera dissimile perché egli non era uno dei personaggi ma una figura centrale della nostra cultura un poeta che aveva segnato un'epoca un regista geniale un saggista inesauribile e per questo dobbiamo studiare Pasolini nel 1954 scrive La meglio gioventù che è una raccolta di due parti dove abbiamo le poesie di Casarsa del 42 che confluiscono la suite friulana e poi il testamento corà e il romancero le poesie di friulana comunque sia sono accompagnate da delle traduzioni e il titolo La meglio gioventù è un riferimento a un canto degli alpini dove c'è proprio un verso che recita La meglio gioventù la va sotto terra quindi la miglior gioventù muore va sotto terra in questa raccolta ci sono delle liriche da leggere che celebrano il ritorno alle origini del poeta la riscoperta della terra materna e anche l'uso della lingua friulana uno dei testi più significativi è il testamento un testamento di 72 versi che racconta la guerra la guerra straziante il cui protagonista è un giovane orfano che viene catturato dai tedeschi e poi muore impiccato questo ragazzo ha un cuore ruvido e disordinato gli occhi sono delle rose roventi e i capelli sono come quelli di sua madre è innamorato di una ragazza che incontra mentre porta al pascolo le pecore e con lei fa la prima volta l'amore lascio in eredità la mia immagine nella coscienza dei ricchi con i tedeschi non ho avuto paura di tradire la mia giovinezza viva il coraggio il dolore e l'innocenza dei poveri nel 1955 Pasolini scrive ragazzi di vita che è un romanzo di otto capitoli di denuncia sociale e viene ambientato nella borgata romana una realtà degradata però ricca di slancio di vita infatti Pasolini la frequenta direttamente come vi dicevo per studiare i comportamenti e le abitudini quindi questa storia racconta le vicende dei ragazzi di vita che appartengono proprio alla borgata e fanno parte di quel sottoproletariato urbano e vivono ai margini della società sono un branco in azione e questo branco viene documentato da Pasolini quindi questo è un romanzo documentario in romanesco questi ragazzi di vita non vanno a scuola ma vanno per strada cercano qualcosa da rubare tombini tubi copertoni non hanno famiglia ma anche se ce l'hanno questa famiglia non si occupa di loro perché vive nella più dura povertà e i ragazzi di vita di questo romanzo sono ricetto il cacciotta averigo il lenzetta begalone agnolo marcello al duccio questi ragazzi stanno nella zona del ferrobedo che è una fabbrica la ferrobedo e questa fabbrica è stata bombardata dai tedeschi quindi è un ambiente lurido cadente saccheggiato dalla gente un po' come i cotonifici nelle zone di periferia ancora oggi ragazzi si radunano al cotonificio e non è che si fanno le cose belle al cotonificio spesso i ragazzi di vita vanno a Ostia al Tevere per fare un bagno e ci vanno con una piccola barca rubata navigano il fiume e qui ricetto salva una rondine non che cade in acqua quindi si mostra un po' umano ricordatevelo ricordatevi di questo episodio di questa rondine ricetto perde la madre e anche il suo amico Marcello a causa del crollo delle scuole le scuole sono un palazzone in via di donna Olimpia i ragazzi di vita continuano comunque la loro vita tra una bisca un visticcio un furto e vivono tormenti tragedie Cacciotta e Amerigo per esempio si fanno beccare perché vanno a giocare una bisca e uno dei due Amerigo viene preso tenta il suicidio e ci riesce al secondo tentativo si butta dal secondo piano di un palazzo questa è una storia che potrebbe essere benissima una storia vera poteva sarebbe potuta essere una storia vera ricetto al duccio e lenzetta rubacchiano di qua e di là e poi ricetto va in carcere e sulla niene i ragazzi poi si fanno il bagno per scherzo fingono di dare fuoco a un amico ma i suoi pantaloni si incendiano e muore bruciato un altro ragazzo si ammala di tubercolosi altri sono cercati dalla polizia uno cade in acqua perde la vita e questa volta ricetto non fa come aveva fatto quando era ragazzino non salva la rondine non salva Genesio e ricetto è ormai perso tra gli altri anonimo un giovanotto quasi che fa il manovale a Ponte Mammolo chiudo nell'egoismo nella sordidezza di una morale prima nel 57 Pasolini scrive Le Ceneri di Gramsci che è una raccolta di poesie di cui una famosissima è il pianto della scavatrice a cui spero di riuscire a dedicare Stanno in futuro una video lezione perché è da leggere nel 59 pubblica un altro romanzo che è Una vita violenta un romanzo che arriva addirittura al premio strega cioè alla finale però poi viene sorpassato diciamo in questa gara dal gatto pardo di Lampedusa e Una vita violenta anche questo romanzo è di fatto caratterizzato dal dialetto romano è un gergo popolare ancora abbiamo quell'intarsio tra la lingua e il dialetto siamo sempre a Roma negli anni 50 e le vicende questa volta coprono circa 7 anni il protagonista all'inizio del romanzo ha 13 anni poi arriva ai 20 i temi sono la violenza la ricchezza la povertà il sesso il riscatto di una vita violenta il protagonista è Tommaso Puzzilli quindi non siamo più i ragazzi di vita ma siamo un ragazzo di vita ma un ragazzo di borgata che vive in una baraccopoli che chiama insieme ai suoi amici la piccola Shanghai anche lui è una brigata come per quanto riguarda i ragazzi di vita è un gruppo di amici che vengono hanno dei nomignoli come c'è tutt'ora nei gruppi giovanili il Carletto il Zucabbo il Matto il Zimmio Ugo il Cagone che tra l'altro si usa ancora oggi non per dire come che un po' se la tira e vive Tommaso in miseria quindi anche lui come i ragazzi di vita ruba per sopravvivere addirittura si prostituisce per raccimolare qualche soldo e poi incontra una ragazza incontra Irene e Irene gli cambia la vita però durante una rissa aggredisce un giovane e viene arrestato va in prigione e quei due anni in prigione lo cambiano infatti uscito dal carcere Thomas vuole condire vita va a vivere in un allogio popolare trova anche lavoro e continua la sua relazione con Irene però si ammala si ammala di tubercolosi e viene ricoverato trascorre anche molto tempo in sanatorio e in questo momento ha tempo per riflettere e riflette anche sulla politica sulla vita sulla società si avvicina al partito comunista italiano quando la niene straripa in un gesto eroico lui tenta di aiutare gli alluvionati di Pietralata lui gli aiuta si bagna molto e il fatto di essere così esposto all'acqua fredda non lo porta ad avere una ricaduta nella malattia e alla morte vedete in due casi abbiamo visto in ragazzi di vita una vita violenta i protagonisti di fatto non finiscono bene perché la vita non è una cosa bella non finisce bene la loro vita perché la loro vita è una vita violenta una vita difficile una vita dura leggete i romanzi di Pasolini leggete anche le raccolte di poesie nella religione del mio tempo ci sono delle poesie bellissime come vanno verso le terme di Caracalla o non è amore non è amore è meravigliosa da leggere assolutamente dopo aver visto questo video digitate su google non è amore a Pierpaolo Pasolini e leggetevela anche nelle poesie in forma di rosa come dimenticare la supplica a mia madre negli anni 80 dopo la morte di Pasolini vengono pubblicati Atti impuri e Amado Mio brevi romanzi che testimoniano la giovinezza dello scrittore e anche la sua esperienza omosessuale vi dicevo l'ultimo romanzo di Pasolini non è pubblicato mentre lui è in vita è pubblicato postumo quindi post morte ed è Petrolio viene pubblicato nel 92 è un romanzo incompiuto doveva essere di 2000 pagine ma ne restano 500 doveva essere una summa di tutte le sue esperienze di tutte le sue memorie lo dice Pasolini a Moravia grande amico e il protagonista è Carlo che è un ingegnere torinese ed è un ingegnere sdoppiato perché è onesto inigio ma è anche crudele lussurioso nel corso del romanzo cambia cambia e si rende conto di essere diventato una donna Petrolio ha il testamento letterario di Pasolini e ha la testimonianza di quel poco di sapere che uno può accumulare nella vita alla prossima video a a a a Grazie a tutti.